incontro a sesto san giovanni per dare il via alla città della salute il progetto è stato illustrato al ministro beatrice lorenzin dalla delegazione della regione lombardia guidata dal presidente roberto maroni il ministero dell'ambiente deve assumere il provvedimento necessario per avviare lavori di bonifica dell'area interessata dai lavori ha ribadito maroni alla presenza del sindaco di sesto monica chitto complessivamente per la città della salute saranno investiti ben 450 milioni di euro un'attenzione particolare verrà riservata proprio ai lavori di bonifica dell'area sulla quale sorgerà il polo dell'eccellenza sanitaria in lombardia l'intento è che nella giudicazione degli appalti relativi non si verifichino presenze sospette della malavita organizzata per questo ci sarà un controllo costante da parte della regione del comune di sesto assicurato maroni